La meditazione è una cosa positiva se viene usata per la gloria di Dio dentro le scritture, nei limiti della Bibbia, e non meditare alle cose fuori dalla Bibbia, che sono filosofie moderne, cose inventate dagli uomini, che non hanno come centro e fondamento Cristo. Se non hanno il fondamento Cristo, sei su un territorio pericoloso. Giusto? Ebbene, guarda, ti do una scrittura, posso? Sì. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, quelle in cui c'è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Ma anche loro meritano cose positive? Sì, sì, però si dimentica una piccola virgola che si chiama Gesù Cristo. Capito? E quello è il punto di identificazione. Io, quando medito queste cose, deve essere partire dal nome di Gesù, continuare e terminare nel nome di Gesù. E questa è la differenza. Quindi... Sì, perché il diavolo si presenta come un angelo di luce, con cose belle e positive, però Gesù, no, Gesù non lo vuole. Sì, tutto tranne Gesù. Perché Gesù lo sconfigge. Quali volte evangelizzano le strade e dicono, senti, lascia da perdere un attimo la religione. Ho ricevuto una lettera, una persona che mi ha detto, guarda, lascia perdere Dio e la religione. Parliamo da uomo a uomo. No, no, caro. No, scusa tu. E scusa tu, come se te mi dici, andiamo a combattere. Però tu, per favore, mi fai un favore. Sì, cosa? Tu metti da parte la tua spada, il tuo scudo, la tua corazza, il tuo almetto e facciamo da uomo a uomo, così che io ti ammazzo subito. Ah, come sei intelligente, signor diavoletto. No, caro. Io non lascio assolutamente, anzi, compiuti da fastidio il Signore, compiù io in un modo o nell'altro, andrò da Lui, nel suo nome. Avanti, Angela. Amen, amen. Grazie, Gesù. Grazie. 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 Grazie a tutti